Tre uomini ubbidiscono Dio. Il re Nabucodonosor fece una statua d'oro alta 60 cubiti e larga 6 cubiti e la collocò nella piazza di Dura, nella provincia di Babilonia. Poi il re Nabucodonosor fece convocare i satrapi, i prefetti, i governatori, i consiglieri, i tesorieri, i giureconsulti, i magistrati e tutte le autorità delle province perché avvenissero all'inaugurazione della statua che egli aveva fatto erigere. Allora i satrapi, i prefetti, i governatori, i consiglieri, i tesorieri, i giureconsulti, i magistrati e tutte le autorità delle province vennero all'inaugurazione della statua che il re aveva fatto erigere. Tutti stavano in piedi davanti alla statua eretta da Nabucodonosor. Allora l'araldo gridò forte. A voi, gente di ogni popolo, nazione, lingua, ordine, quanto segue. Nel momento in cui udrete il suono del corno, del flauto, della cetra, della lira, del salterio, della zampogna e di ogni specie di strumenti, vi inchinerete e adorerete la statua d'oro che il re da Nabucodonosor ha fatto erigere. Chi non si inchina per adorare sarà immediatamente gettato in una fornace ardente. Non appena tutti i popoli ebbero udito il suono del corno, del flauto, della cetra, della lira, del saltero e di ogni specie di strumenti, i uomini di ogni popolo, nazione e lingua si inchinarono e adorarono la statua d'oro che il re Nabucodonosor aveva fatto erigere. In quello stesso momento alcuni caldè si fecero avanti e accusarono i giudei dicendo al re Nabucodonosor «O re, possa tu vivere per sempre? Tu hai decretato, re, che chiunque ha udito il suono del corno, del flauto, della cetra, della lira, del saltero e della zampogna e di ogni specie di strumenti, deve inchinarsi per adorare la statua d'oro. Chiunque non si inchina e non adora deve essere gettato in una fornace ardente. Ora ci sono dei giudei ai quali tu hai fidato l'amministrazione della provincia di Babilonia, Sadrach, Mesach e Abennego, che non ti danno ascolto, non adorano i tuoi dèi e non si inchinano la statua d'oro che tu hai fatto erigere». Allora Nabucodonosor, irritato e furioso, ordinò che gli portassero Sadrach, Mesach e Abennego e questi furono condotti alla presenza del re. Questi risposero al re, «O Nabucodonosor, noi non abbiamo bisogno di darti risposta su questo punto, ma il nostro Dio che noi serviamo ha il potere di salvarci e ci libererà dal fuoco della fornace ardente e dalla tua mano, re. Anche se questo non accadesse, sappi che comunque noi non serviremo i tuoi dèi e non adoreremo la statua d'oro che tu hai fatto erigere». Allora Nabucodonosor si infuriò e l'espressione del suo volto mutò completamente nei riguardi di Sadrach, Mesach e Abennego e gli ordinò che si arroventasse la fornace sette volte più del solito. Poi ordinò agli uomini più vigorosi del suo esercito di legare Sadrach, Mesach e Abennego e di gettarli nella fornace ardente. Disse ancora il re «Eppure io vedo quattro uomini sciolti che camminano in mezzo al fuoco senza aver sofferto nessun danno». E l'aspetto del quarto è simile a quello di un figlio degli dèi. Nabucodonosor si avvicinò alla bocca della fornace ardente e disse «Sadrach, Mesach, Abennego, servi del Dio Altissimo, venite fuori». E Sadrach, Mesach e Abennego uscirono dal fuoco. I satrapi, prefetti, governatori e consiglieri del re si radunarono. Osservarono quegli uomini e videro che sopra il loro corpo il fuoco non aveva avuto nessun potere e che neppure un cappello del loro capo era stato bruciato e le loro tuniche non erano alterate e che essi non avevano neppure odore di fuoco. Nabucodonosor prese a dire «Benedetto sia il Dio di Sadrach, Mesach e di Abennego, il quale ha mandato il suo angelo e ha liberato i suoi servi, che hanno confidato in lui, hanno trasgredito l'ordine del re, hanno esposto i loro corpi per non servire né a adorare alcun Dio che non sia il loro. Perciò ordino quanto segue. Chiunque a qualsiasi popolo, nazione o lingua appartenga di ramali del Dio di Sadrach, Mesach e Abennego, sia fatto a pezzi e la sua carne ridotta in un letamaio. Perché non c'è nessun altro Dio che possa salvare a questo modo? Grazie per la visione! Grazie per la visione!